come c'è questa persona con un merda di ron Mamma mia, io così mi dormo mia, bello. Senti, sono venuti, e io dopo ho cooperato. Ma che vogliono? Non, 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 non. Hai, stambi. Hai, io. Ma schiccati. Parani, hai po. Che schicchi, poi mi chino la pappa. Peperosa. Allora, ci siamo ne qua? Ehi, che c'è? Ma non c'è una morte! Allora, c'è una morte che ti raccoglie! Allora, tutto ci fa! Io veramente mi stai! Lascia, mi c'è! C'è la chiamata questa qua? Io sono un figlio e vogliamo coniglio! E nessuno mi crede come stupendo! Io voglio dire che piacerebbe darla! Allora, cosa ti conto di me è stata tutta quella? Che voglio, come hai già fatto? Perché hai stupendo tutta quella? E' morto! Bello piccino, bello piccino! Ma che vuoi dire che è successo un'altra volta? Che cosa? Che cosa vuoi dire? E parla poi, allora, cosa vuoi dire? Parla! Che cosa vuoi dire? Porca miseria, ma non è già morto! Io non c'era, io ci stavo andando! Purtroppo è giù da così! E ora, ora mi stai cercando pure a me! Una volta è morto l'amberto! Eh, hai capito, una volta è morto! Ma cosa stai facendo? Pensavo a girare i bottoni intanto, ma mi stai cercando! Ma c'è così qua a terra! No, pure so un po' giudato, l'assunito! No, non c'è! 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 No, non c'è!